Salgo verso Sevanavank Siamo al mercato Vernissage Sono dentro Sono Travajk e Sisyan, credo Al confine tra la Georgia e l'Armenia Sono qua, non so neanche dove sono E adesso sto salendo su a Smataberd Siamo a Yerevan Siamo tornati a Yerevan Siamo a Ghegar Siamo a Ghaiane Sono a Sisyan Siamo a Garni Siamo a Sevan Sono le 7 e sono ancora qua Sardarapat Smataberd Sono a Arpi Sono Sisyan Siamo a Yerevan A Yerevan Sono qui Sono in mezzo a Lula Echmiazin Kairavank Ajukdakvank Goshevank Yegegnazor Noravank Garni Vai Yerevan Yilijan Sono sulla cima della cima Ciao Ciao mamma Ciao mamma In the month of July to September 2015 I travel extensively throughout the year This is what I found Ciao mamma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.